Sì che ho votato. Contento di averlo fatto? Contento di averlo fatto, assolutamente sì. Sì, sì. Allora abbiamo votato. Abbiamo votato io misto qualche sì e qualche no. No. Come mai? Perché ero assolutamente contrario. Non sono neanche dato a votare. No. Come mai? Non ho avuto tempo. No. No. Non volevo far raggiungere il quorum, quindi ho votato solo alle amministrative. No, no, io non sono andata a votare. Le ha dispiaciuto essere qui e non poter votare? No, assolutamente. Non votavo lo stesso. No, erano assurdi e quindi... Assurdi in che senso? Incomprensibili? Inutili. Non sono andata a votare perché sono anche infortunata. Come mai secondo lei così poca gente è andata a votare, signora? Ma perché avevano poco interesse. Secondo me non è stato presentato nella maniera più corretta e troppo un referendum incomprensibile al cittadino medio e quindi mi sono rifiutata di votare. Erano chiari i quesiti secondo lei? Beh, se uno si era informato, sì. Certo, se uno va lì e così e pretende di capire al momento... Non erano, secondo me, all'altezza del popolo comune. Quindi c'era da studiarli e poi da votare, casomai. Dal mio semplice punto di vista era quasi più logico che fosse deciso da chi è molto più preparato di me ai livelli costituzionali. Non mi sono neanche documentata molto, devo dire la verità, perché era troppo complicato, secondo me. Grazie a tutti.